Ecco, come si vede siamo sempre nei cantieri a Prea con i partecipanti alla 29esima regata dei Martini. Con chi abbiamo il piacere di parlare? Con Carmine De Donato, un partecipante, un timoniere dell'imbarcazione. Sta facendo il modesto, in realtà lui è il detentore del trofeo, del campionato italiano, ultimo fatto. Sono stato creato da Torino Esposito ed è l'armatore del Don Giovanni, una delle barche più belle costruite a Pisciotta, quindi un'altra marineria importantissima, la marineria di Pisciotta, il cui maestro Dasha per eccellenza è il maestro Giovanni Gammarano. Cosa vogliamo dire? Perché ci ha creato Torino Esposito? Ci ha creato Torino Esposito perché ha lanciato questo trofeo, il Donna Franca Corio, dove noi abbiamo partecipato e più volte abbiamo conquistato questo trofeo. Diciamo che hanno vinto sempre loro, adesso siamo all'ultima edizione e forse ce lo portano via. Beh, per certi aspetti ci piace. Speriamo di portarlo in campagna e poi lanciare questa nuova sfida, questo Donna Franca, lo troveremo in campagna e qui, chi sa. Vedremo cosa succede. Prego, accomodatevi. Quindi un saluto da Pisciotta ai Sorrentini. Grazie, ma noi una promessa, verremo sul posto per fare un'intervista. Fantastico, vi aspettiamo allora. Grazie, grazie a voi, buonasera.